Start, 2, 1, Mystery Mission and Liftoff! è un gioco che gli sviluppatori mi hanno mandato senza chiedermi nulla e che vi porto è uscito anche per xbox e playstation ed è un platform vecchio stile è un platform dove avremo diversi capitoli al momento abbiamo solo la prima missione poi dobbiamo andare avanti e nella missione ci sono varie vedete che cliccando qua sotto su cave che è la prima missione dovremmo vedere tutti i libri tutti i burps che si possono trovare tutti i radio show tutte le cose collezionabili che si possono trovare all'interno di questo mondo e come pubblicità di questo gioco è stato definito come l'incontro tra il libro della giungla e l'armageddon quindi un incrocio abbastanza curioso lo iniziamo come ben detto graficamente è carino è un platform che si rifà agli stili SIGA quindi vedremo adesso iniziamolo e lo proviamo insieme ovviamente non dura moltissimo 4-5 ore poi c'è sempre la dieta di base vale la pena o meno spendere 15 euro o 10 euro per 4-5 ore ma vi ricordo sempre che i giochi almeno quelli con cui io sono cresciuto ne impiegavano molto meno a finirli un Mario Land magari 60-70 mila lire ai tempi si finiva in un'ora e 10 o anche meno allora sto giocando col pad tengo premuto RT per spingere oggetti si questo è classico no graficamente è veramente carino perché bellissimo ah è per questo che lo definisce il libro della giungla ok ci siamo messi questo casco non si sa perché comunque bellin che gli effetti di luce dello scenario onestamente non lo conoscevo il gioco e mi è arrivato così premio y per interagire ok abbiamo già finito praticamente il prologo si vedono degli uomini partire con dei razzi almeno si vedono solo dei razzi che partono perché non so se siano armi i giorni erano caldi i giorni erano caldi i giorni erano caldi sono sciolite le piante i giorni erano smesso di cantare i pesci sono morti c'erano fulmini ma non pioggia chiamiamo questo periodo la grande catastrofe ecologica ho sentito il battito di mia madre ricordo che la gente fuggiva quando abbiamo raggiunto la città flusso con i rifugiati in botti in barche di gomma gommoni ero spaventato e solo non sapevo se fosse morta o mi avesse abbandonato ricordo solo i razzi che lasciavano la terra per marte quella notte il combattimento è cominciato la pioggia cadeva nella foresta e una lupa mi ha trovato e mi è cresciuto con i suoi cuccioli le persone non e va veloce cavoli ma gli orfanieri animali non combattono invece insieme si sono adattati alla natura che sono cresciuti ok sono passate molte lune e un giorno gli umani sono tornati si sono chiamati marziani erano vestiti in giallo sono corsi in giro perché sono gli stessi autori di wasteland golf giocavano a golf in pratica ho trovato un marziano morto ho tolto il suo elmetto e c'era della musica all'interno dopo anni dove parlavo solo con i lupi ho ascoltato la radio marziana e ho imparato nuovamente il linguaggio umano dopo che il gruppo si è andato una luna piena intera dopo è atterrata un'altra nave era chiaro che loro sono guai significano guai interessante quindi vi dicevo wasteland golf in paesi chiami che è il titolo che hanno fatto questi sviluppatori prima di questo devo stare attento con la radio perché mi è stato segnalato che potrebbero arrivare delle botte di copyright non è in italiano non lo sarà probabilmente perché il gioco è già bello che è uscito quindi purtroppo mi dà un po' fastidio il fatto che lo traducano nella pagina steam ma non un po' in gioco ma va bene comunque voglio vedere se salta lo stesso anche quando sono dietro no? devo prendere bene la rincorsa ok si va di là si salta qui la ricorda un po' oh no mi sto rampicando su e vedo la città e vedo le navi che stanno arrivando tra l'altro non so dove sto andando perché sto seguendo questo cielo qui la lore diciamo la storia è interessante questo mi vede mi fa qualcosa sicuramente non mi fa bene esatto esatto e spara pure non so dove devo andare ma ah dice primi B ah ok ok salvo però qua ce n'è un altro aiuto ah qua posso scivolare aia bellino scivolo vado sotto qua ne scatta un'altra mi arrampico qui doppio sa mamma mia che che nervoso e c'è la morte subito cioè proprio non è neanche vite supplementare inizia a diventare cattivello il gioco comunque aspettiamo che questo passi sotto poi le premesse sono buone spero non mi becchi quando spara ok ce l'ho fatta al pelo devo passare sotto c'è qualcosa qua ma però è qua sotto così allora adesso vado su credo mi dondolo di là magari prendiamo anche qualche collezionabile y per interagire ah ho preso i burps ah i rottini e qua i pezzi di giornale sono tutti i collezionabili che stiamo già raccogliendo della della che abbiamo visto nella stanza prima sono tutti i giochi un po' come una bomba un po' come era inside limbo insomma con con un modo di raccontare la storia che tiene incollato perché vuoi sapere cosa succederà cosa sta succedendo quali sono i segreti ok un altro burp sono morto ancora e si muore in modo diverso perché compare proprio la morte disegnata allora io adesso salto qui ma di là non posso andare quindi vado da questa quindi vediamo se oh io vado di là no sono dove ero prima poi c'è quella bomba lì che non so cosa sia mi sono fatto malissimo ma non sono ma ah si passa sotto qua e siamo nella grotta molto male molto male però fortunatamente ripartiamo da qui quindi io fugo ok si può andare qui c'è qualche collezionabile su questo eh si saltando lì mi ha fatto saltare giù questo che sarebbe un messaggio sei sei atterrato in un territorio ostile vicino a un sospetto bunker nemico gli alleati più vicini sono 15 click a ovest hai approssimativamente 17 minuti per raggiungere una distanza di sicurezza alfaville 100 tics a est ah interessante sono le chiavette usb queste che si recuperano vedete che saltando ho fatto saltare giù da quel corpo un elemento di lore davvero interessante ok bellino questa cosa del no mi piace molto devo dire che non è fatto male mi ricorda anche un po' vedendo questa visuale qui planets of lana planet of lana non planets e no spero non mica i problemi su questa radio che si sente questa musica qui e mo ok si stava pure piegando fatemi un po' vedere si si sta piegando però non si rompe ok mi bastava prendere meglio la rincorsa questo cos'è sto andando anche abbastanza spedito qua devo rampicarmi un po' e prendere un ulteriore doppio salto si lascia giocare un altro oggettino un'altra chiavetta usb imboscata dagli insorgenti ritirata ok non c'è acqua bevibile in queste regioni controllate dai riottosi quelli che si rivoltano insomma va bene missione hope ok abbiamo entrato questa cosa non c'è altro oh no c'è questa cosa qui che che sia una zona segreta no ahia là c'è un lupo un altro lupo anche qui che ci guarda boh si nuota pure bella l'animazione dell'acqua mi piace molto sono quei giochi che non vi tengono impegnati per centinaia d'ore e che non dovete neanche avere la fretta di finire perché finiscono abbastanza in fretta ma che vanno sempre a cambiarvi a farvi fare lo definirei una sorta di viaggio perché comunque andate e visitate location sempre diverse con elementi comunque di difficoltà non eccessivamente alti ah non si muoviva qua quando si elettretta si però si va bene beh io direi che non è il caso di andare avanti ulteriormente anche perché credo che se qualcuno di voi è interessato a questo titolo quello che ha visto finora non fa altro che essere un grande spoiler quindi ho fatto una gran brutta fine volevo saltare sopra perché mi risultava più semplice sotto ci sono voci continue che continuano a parlare adesso io ho settato i sottotitoli grandi per poterli vedere bene ma in realtà di base sono più piccoli quindi direi che potremmo anche finire qui dovevo abbassarmi vabbè fatemi sapere che cosa ne pensate di questo The Cub qua sotto nei commenti come al solito noi ci sentiamo nel prossimo video in play alla prossima e ciao ciao